Promozione della qualità e multifunzionalità aziendale, le caratteristiche vincenti dell'azienda agricola tutta al femminile La Mia Terra di Pontinia. Un successo riconosciuto all'azienda anche dal New York Times che ha dato lo spunto al presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, e alla consigliera regionale Isabella Rauti per organizzare una cerimonia in suo onore. Abbiamo voluto così incontrare questa impresa, un'impresa del Lazio, della provincia di Latina, perché è stata oggetto di attenzione di un quotidiano internazionale, New York Times, quindi un'impresa che in qualche modo sta dando lustro alla nostra regione da quattro generazioni, produce prodotti agricoli di grande qualità. Noi come Consiglio regionale abbiamo dato il nostro messaggio di benvenuto nel Consiglio regionale, soprattutto abbiamo assicurato la nostra attenzione per l'agricoltura, la nostra attenzione che si manifesta attraverso finanziamenti concreti del piano di sviluppo rurale, ma soprattutto attraverso provvedimenti legislativi in grado di poter tutelare il nostro Made in Lazio per la tutela dei prodotti agricoli della nostra regione. Lo stiamo facendo, l'abbiamo già fatto con l'approvazione di provvedimenti importanti per quanto riguarda soprattutto la protezione del quivi, per quanto riguarda soprattutto la produzione della legge sulla tracciabilità e lo faremo con l'altra proposta di legge che porteremo in Consiglio regionale, la proposta di legge a chilometro zero. E' questo che ci chiedono i nostri imprenditori e questo che noi faremo per rafforzare un segmento importante del nostro paniere economico della nostra regione. Abbiamo oggi invitato per una premiazione tutta l'azienda della mia terra, della provincia di Latina, che rappresentano veramente un paradigma positivo di impresa femminile in agricoltura, un settore che non conosce la crisi, anzi combatte la crisi con modelli come quello appunto dell'azienda la mia terra, che sono modelli di multifunzionalità agricola, in cui si intrecciano l'offerta dei servizi, gli aspetti della fruzione turistica, l'agriturismo, la produzione agricola naturalmente, ma un modello direi organico e sostenibile di vivere l'agricoltura. Un premio a queste donne, quattro generazioni di donne, che rappresentano una buona prassi e che possono avere un effetto moltiplicatore anche di entusiasmo rispetto a tutto il resto dell'impresa femminile. Un'impresa, quella in agricoltura, che la regione ha inteso continuare a sostenere, sia in termini di erogazione di contributi, ma anche in termini di una recente proposta di legge approvata all'unanimità nella Commissione Agricoltura, che al suo interno va a ordinare la produzione agricola insieme alla produzione di servizi e alla produzione anche agrituristica. Produzione e servizi si intrecciano quindi in modo molto creativo, organico e sostenibile. In rappresentanza dell'azienda in questione abbiamo ascoltato la più giovane componente dell'azienda, che ha soli 17 anni. Giulia, un'impresa tutta al femminile la vostra, sei l'ultima di una generazione di donne? Sì, io sono l'ultima e ogni giorno cerco di aiutare i miei genitori, i miei nonni, per portare sempre questa azienda in crescita. Quanti anni hai Giulia? Io ne devo fare 17. Ecco, sei molto giovane e quindi intendi proseguire il lavoro dei tuoi genitori, della tua famiglia e non ti senti negata magari dei tuoi diritti di ragazza, uscire con le amiche e dedicarti magari allo studio o d'altro? No, no, mi dedico allo studio però contemporaneamente aiuto anche i miei genitori e adesso che finisco gli studi intendo proseguire l'azienda dei miei genitori. Come vedi il tuo futuro? Lo vedo bene perché guardando i miei genitori vedo che anche io ho un futuro con loro e proseguendo appunto l'azienda.